Diego Cenciarri, intanto le tue condizioni, perché ultimamente non te la stai passando granché bene sotto il punto di vista fisico, come stai? Ma sto bene, diciamo che sto bene, a parte qualche problemino fisico ci ho avuto al ginocchio, comunque niente di grave e quindi bene. Prima di parlare della squadra, parliamo di te, è un po' la stagione della tua consagrazione, no? Mi fa piacere che comunque pensiate questo, che comunque stia facendo bene, io penso comunque a lavorare e a migliorarmi e poi a riuscire a fare bene con il termo, che sarebbe importantissimo. C'è stata anche un po' una evoluzione dal punto di vista del ruolo, lo scorso anno giocavi in un centrocampo a quattro, ora c'è questa nuova dimensione, magari giocavi anche un po' più avanti rispetto a come facevi lo scorso anno? Sì, l'anno scorso giocavamo a due, è completamente diverso rispetto al modulo di quest'anno, comunque mi sto adattando e comunque speriamo bene. Ma stai scoprendo anche nuove caratteristiche di te, nel senso ti piace giocare in questo ruolo di mezzala, ti proponi molto di più, il gioco passa molto per i tuoi piedi? Ma quello sì, comunque cerco sempre di essere nel vivo dell'azione, dovrei imparare a segnare qualche gol, ogni settimana lo dico, però ancora a zero, però è chiaro che questo modulo è un modulo che comunque fa per me. Senti, ad Ancona il pareggio va bene oppure forse vi è mancata quella cattiveria, quella voglia di crederci, magari di rischiare qualcosina in più? Io penso che è chiaro che potevamo fare sicuramente meglio, però c'è da dire che giocavamo in un campo che era pieno di buche e controllare la palla era completamente difficile. Poi chiaramente abbiamo giocato contro una squadra che comunque era molto aggressiva e ti permetteva di giocare pochissimo, le nostre due o tre occasioni le abbiamo create, non ci è andata bene come le altre volte, però è un punto importante. Senti, il Gubbio, il vostro prossimo avversario sarà la seconda trasferta consecutiva, non stanno granché bene come risultati, però è una squadra ostica. Ma è una squadra che è cambiata completamente rispetto all'andata, come l'Ancona, d'altronde, ed è una squadra da prendere con le molle, perché comunque nel complesso sta facendo bene. Si gioca nella tua terra, ma non lo senti un po' come un derby, non penso? No, a Perugia gli Ocubini sentono il derby con il Perugia, ma i perugini l'unico derby che sentono è quello con la Ternana. Quindi niente derby? Personalmente no.